Almeno una volta al mese il Movimento 5 Stelle si caricaturizza da solo con involontarie autodenigrazioni, era successo lo scorso 29 gennaio alla Camera, frizzi, lazzi, insulti, urla, bavagli sulla bocca, schiaffetti, eccetera. È successo di nuovo oggi a Palazzo Madama per lo stesso motivo, cioè il Movimento 5 Stelle interpreta la rappresentanza come ostruzione, poi arriva il Vice Presidente del Senato, il mese scorso fu Laura Boldirini, cioè il Presidente della Camera, annuncia la decisione di sospendere la discussione sul DDL proprio per impedire l'ostruzionismo, che peraltro è anche legittimo, e a quel punto scoppia la protesta ovviamente del Movimento 5 Stelle, oggi parole grosse, non vi meritate il titolo di onorevole attuonato Sant'Angelo che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, andrete tutti a casa e poi questo canto così vuoto in quell'aula, così strano, fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato, ecco, dicevamo, almeno una volta al mese il Movimento 5 Stelle si caricaturizza da solo e dunque ci sono queste manifestazioni di intemperanza, poi c'è il parlamentare che creda nell'esistenza delle sirene, poi c'è quello che ha paura dei microchip installati sotto pelle, c'è il mattacchione che se la prende con le banche ma non sa che la Banca d'Italia è sempre stata privata e insomma se continua così, cioè in mancanza di riforme, di grandi opere, di disegni di legge, di proposte, di efficienti scuole di Stato, di rilancio dell'economia, di idee e di talento, presto di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle, ecco, potrebbe restare, e soltanto diciamo così come materia di studio, solo un formidabile modello di autoannichilimento. Cioè voglio dire che mai si era visto un partito conquistare 8 milioni di voti come ha fatto Grillo, che sono circa il 25% dei voti delle scorse elezioni di febbraio, e quindi sfiorare addirittura il risultato di Silvio Berlusconi per poi consegnarsi in Parlamento all'irrilevanza politica, al grottesco, a queste immagini che vedete, cioè allo sbraco più incomprensibile plebeo, alla rissa in aula. Ecco, guardate queste immagini, una gabbia di scimmie che mostrano lo sfaccettamento rosato del deretano. Grazie.